Vedetevi che c'è un premio grandioso questa notte per il vincere la parola di vincere i 5.000 euro, chiamatemi subito! No! La P di... stavo dicendo qualcosa di... la P di pisello ragazzi, comincia con la P di pisello. La Z di zanzara, la Z... due zanzare abbiamo qua e una P di pisello. Non è che la Zanzara punge il pisello magari. Questa è la mia fantasia con torta e quindi voi cercate invece di unire le lettere per dare la soluzione. Chiamatemi che sono in diretta! Oggi che è il 2 luglio 2007, vi sto aspettando! Vi voglio super divertenti, vi voglio vincenti! E allora approfittatene a chiamarmi che sono in diretta! Se vi posso dare l'aiutino giusto, necessario per vincere, per stravincere ragazzi! Pronto? Sei in diretta? Ok, grazie! Per me la parola è palazzi! Palazzi? Sì! Quali palazzi? No! No! Ma quali palazzi in te nevita? Niente! Hai sbagliato palazzo! Hai sbagliato strada, palazzo... Hai sbagliato tutto! Però non... Non abbatterti di prova subito a chiamare! Hai una grandissima... Hai un grandissimo premio qui davanti che sono 5.000 euro! Possibile che perché 5.000 euro voi non vi date una mossa! Come si suol dire, è una grande mossa! E attenzione, attenzione ragazzi, attenzione perché la A e la I si stanno nascondendo! E allora quando due... Quando due lettere si nascondono, diventa un po' difficile indovinarsi! Specie quando si cambia di canale spesso, no? Allora ragazzi, rimanete sempre in diretta! Approfittatene per osservare le consonanti e le vocali! Solo così potrete dare la soluzione esatta! Allora, impegnandomi un attimino! Lo so che l'orario non è un orario da concentrazione, però magari ai notturni, magari quelli che stanno svegli di notte, penso che siano più concentrati del solito, come sono notturna io! Allora, 899-411-440 è il numero fortunato, cioè il numero che dovete voi comporre dal vostro telefono di casa, svariate volte, perché più chiamate e più possibilità avrete non solo di essere estratti, ma di vincere! 5.000 euro in questo caso, il super bonus! E 5.000 euro, non li vincete sempre, eh! L, L, L di... 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 L di luce, ma certo! L di libellula, L di... Vediamo, letto! Eh sì! Allora, cerchiamo di comporre questa parola, sì o no? Siete tutti mezzi addormentati, ragazzi! Chiamatemi subito! Anche perché vi risponderò io alle telefonate della diretta! E allora, datevi da fare, ragazzi, che ci sono 5.000 euro! Ma è possibile che volete farli vincere a qualcun altro? Chiamami adesso! Chiamami subito, ma richiamami se ti cade la linea! Perché più mi chiami, e più vinci, tesorino! Allora, vuoi vincere, sì o no? La P di pisello! Comincia con la P di pisello la parola! Non è che ci sono tante parole che cominciano con la P di pisello, chiamami! Che ti darò l'aiutino, tesorino! Dai, telefonami! Ho tanta voglia di farti vincere questa notte, lo sai, sì o no? La O! La O-O! Sta correndo come una Ferrari! E la A di... Anguria! Anguria! Io ci avrei una voglia di mangiare anguria adesso, ragazzi! Allora, continuate a chiamare i numeri degli 899 da PISO! Allora, compresa la telefonata, avrete 20 loghi e sonerie per fare impazzire il vostro cellulare! Pronto? Pronto? È pizza? Pizza? Hai voglia di pizza, amore? Non è pizza? Pocherello! Pocherello! Hai voglia della pizzetta, amore? Ma non è pizzetta, amore! La vuoi alla diavola? La vuoi quattro formaggi? Come la vuoi la pizza, amore? Alle verdurine? A me piace la messicana, tesoro! Allora, pizza, andiamo al pocherello! 5.000 euro! Super bonus! La P di pisello! La P di pomodoro! E avanti così! Vi voglio far vincere 5.000 euro questa notte, ragazzi! Voglio essere buona buona! La A di anguria! E con l'A, quante cose si possono fare con l'A? C'è chi urla con l'A e c'è chi urla con l'O? Ecco cosa urli, con l'A o con l'O? Comunque, ragazzi, che ti do l'aiutino per la parolina, tesoro! Vuoi la parolina, amore? Chiamami! La P di pisello! Cominciamo con la P di pisello! Questa parola potrebbe... La P di pisello! La Pizzaiola! La? La Pizzaiola! No! No! Però, Puscherello, ci sei vicino, dai! Sì? Sì, ci sei vicino! Dai, prova a richiamarmi e concentrati un attimino! Non ti posso far dire altre soluzioni, quello no, non posso! E allora, ti suggerisco di chiamarmi, ma no veloce, di più, perché ci sono 5.000 euro! 5.000 euro, un bonus, ragazzi, grandissimo! 5.000 euro componendo gli 899, 411, 404, oppure 899, quattissimamente, premi, si abbassa, si, 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 si! 3 minuti di tempo ancora a tua disposizione per comporre, in me che non si dica, i numeri in sovraimpressione dell'899 da Pisso! E vi ripeto ancora che ci sono delle lettere, quasi quasi, che vi aiutano, nella loro disposizione, a dare la soluzione! E allora, affrettatevi a telefonare, ragazzi! Non stiamo vendendo Pentolem, vi stiamo regalando 3.000 euro, due minuti di tempo! Pronto? Pronto? Wow, poi la parola per me è polizia! La parola è? Polizia! No, siamo fuori del tutto, ragazzi! Figurati se io mi mangio la polizia! Io mi mangio un'altra cosa, masticabile magari, no? Qualcosa di buono, no? Ho detto prima che la parola comincia con, ve l'assicuro, ve lo giuro, comincia con la P di pisello, l'avete mai visto un pisello? Ecco, questa parola comincia con la P di pisello, però questa cosa non ha una forma di pisello, ha un'altra forma diversa. Una forma umana, sì, forse ce l'ha anche il pisello, però è un'altra cosa. Lui, questo signore qua, si impegna a fare delle cose rotonde, delle cose che hanno anche delle verdure, dei pomodori, pomodorini, delle mozzarella, magari quella di bufala. E ci mettiamo anche un po' di salamino piccante, un po' di peperoni alla griglia e poi cosa esce? Dai, chiamami che hai già capito, però devi essere veloce se hai già capito.